e ciao ragazzi sono steve christian pro e oggi ci troviamo in questo nuovissimo video di amon gas oggi ci troviamo con alex gabriele pro visto che non ci sta il nome abbreviamo con steve pro e allora oggi useremo gli hack su amon gas possiamo scegliere la velocità che vogliamo così è velocissima se no crasha per esempio così vu e troppo velocissima quindi mettiamo tipo la normale poi attraverso le pareti poi attiviamo tutto no le pubblicità questo no questo no questo qua perfetto guarda e c anche gabriele c'è ecco guarda posso uscire dall'astronave bellissimo ok iniziamo con public che abbiamo qua dobbiamo aspettare beh raga allora iniziamo piano piano vediamo mettiamo tutto questo va bene così mettiamo così che il conto beh l'impostore no dai troppo se no si annoia l'impostore dai mettiamo almeno 30 secondi 30 secondi va bene poi cremate visione tanto dai anche no la velocità del player mettiamo uno che se no crasha tempo del voto tutto quello che vuoi no 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 il tempo del voto io mi annoio poi discussione 30 secondi emergenza così questo emergenza così questo perfetto raga siamo in 9 9 su 10 aspettiamo ok raga si inizia io le hack nessuno ancora lo sa pronti vediamo se siamo l'impostore posso vedere lo schermo di gabrie impostore proprio il primo colpo bellissimo perfetto non mi deve scoprire nessuno allora intanto non mi devono scoprire che sono un hacker ok allora io non ho fare da un nessuna stack gabrie tu devi fare le tax di fare aspe la mappa e su mamma mia o io l'uccido questo no no io ho paura che non mi ricordo le telecamere dove sono aspe vado subito le telecamere basta che faccio così perfetto dove sono le telecamere eccole qua io ho buttato la pastatura hai buttato la spazzatura bravo ok ecco qui qui c'è qualcuno no raga ma così non sono non faccio un cavolo cioè devo fare l'imposto aspetta o è morto qualcuno vediamo chi è che è morto secondo me è rosso basta io non sono morto è il verde dicono red red ok votiamo tutti il red ok ho già paura io eh perché non voglio morire subito sennò divento un fantasma che non sa fare niente ok votiamo tutti il red ecco qua votiamo tutti il red vota qua il red gabrie ecco qua bravo ma tu gabriele non ha mai giocato da mongassi la prima volta questa è la tua prima partita eh sì ragazzi questo ok e via red via nello spazio e non era l'impostore io lo sapevo ok gabriele però non sai neanche che cosa deve fare io ti posso uccidere gabrie se voglio allora vediamo se c'è qualcosa no qui niente dove sono le telecamere aspetta che trapasso i muri vediamo se c'è qualcosa qua o le botole vabbè cosa mi servono le botole oh questo è una telecamera aspetta ma le telecamere non sono neanche cattive vediamo un po' di telecamere ma perché sono disabilitate abbiamo vinto ma non abbiamo fatto ancora non ho fatto ancora niente però ok salute ho detto brown adesso era l'impostore perché io guardo il telefono e lo schermo di gabrie e vedo tutti gli impostori perché lui è un impostore mi dite che furbo sono ancora sono gabrie non uccidere il nero scappa scappa uccidilo uccidilo vai dai uccidilo gabrie uccidilo vai sacchini bravo oh ma cosa sono questi rumori dai le telecamere sono accese no meno male cos'è questa roma posso andare sotto aspetta mi vedi gabrie non mi uccidere oh ma vabbè abbiamo perso e gabrie l'ha vinto non ho capito però ok zitti non si parla sono il creguate sono l'innocente ma aspettate ma ma manca se non è la stessa cosa di midtermustery quello di minecraft the kiv c'è tipo che il creguate l'innocente e e vabbè e vabbè ma cosa schiacci il bottone c'è ma che emergenza c'è mi che noia la discussione chissà quanto durerà ok giallo hanno votato tutti si buono lo so vediamo e quasi tutti e quattro persone hanno votato il giallo a me non mi hanno votato perché io sono innocente via vai via giallo ma hanno votato più giallo perché non l'hanno buttato fuori vabbè allora inizialmente voglio usare un po' di hack prima io non voglio ecco questa è la mia preferita prima io non voglio la velocità non vuoi la velocità non ti piace almeno almeno non sono ah cioè dopo ci sei tu poi io salgo sul letto vabbè non posso sono troppo veloce aspetta mi metto la velocità minima perfetto ok ora sono meno veloce vediamo un po' di telecamere o per ospe ok mmm uh guarda che hack che ci sono oh ma pink pink è il è il rosa no 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 secondo me il pink era vicino al morto non l'ho visto bene però no io voto il pink no no secondo me è pink voglio vedere vediamo alla fine che cosa succede io non posso eh aspetta manca un po' non ho votato più il rosa vediamo se era l'impostore per favore fai che è l'impostore come non era l'impostore ma cosa ma era morto tipo qui vabbè facciamo questa task prima non l'ho fatta buttiamo vai via queste foglie secche ok muori ma ma perché non mancava una foglia ma non c'era prima vabbè almeno l'ho completata ok guarda che bello che trapasso i muri cioè più hacker di così ma uh guarda che spie guarda sto ballo oh guardate che hacker quello attraversa i muri ah ma non sono l'unico qua che sono un hacker ma dai mi ha ucciso l'assassino è il nero è il nero? sì ok mi ha ucciso è il nero ma vuoi che ha fatto il nero? eh prima non puoi vuotate tutto il nero ok ok no il black questo sta aiutando l'altro no adesso scrivo sempre black no se votate me tanto non sono l'impostore sei sicuro che è il nero gabri? sì ho fatto tutto il nero gabrile è morto no io voto il black per forza basta mi ha ucciso il black sì sì l'ho visto cosa votate me? non sono l'impostore ma dai ma non sono l'impostore sei andato fuori eh certo vabbè abbiamo perduto lo sapevo che era il black guarda quando non mi ascoltano in un colpo solo tutti quanti cinque ok alex gabrile pro eccolo qui ma cos'ha in testa gabri? è un creepo ma cos'ha in testa? creepo gli ho tagliato la velocità la velocità? sì eh ok aspetta vediamo cosa dicono ah noob aspetta guarda cosa è schifo sì sì però se mi guardate ecco mi sa che qualcuno l'ha visto vabbè dai veloci non è bello dai ma dai creepo e togliela togli come? che cosa? stupido ah ecco qua dai il tolto ah vero start grazie che me l'avete detto ok via 3 2 1 spero di non avere la memoria piena shh zitti vediamo chi è l'impostore Gabriele è l'impostore dai chi sono gli impostori gabri? eh ma io non voglio il black è l'impostore ho visto dalla sto schermato sì ma io sto camminando così alla cavolo non sto neanche guardando scappa 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 gabri no eh vabbè scappa lì stai guarda che ti vedono eh oh ma aspetta ma io sono nello spazio io non sto neanche guardando il mio schermo ok aspettate perché report? non ho visto neanche se c'era no sono morto sei morto? no non sono morto chi è il vediamo gli impostori non dirà ma black black adesso l'ho fatto con il telefono dei capri sì vabbè però non si fa così eh zitti non si parla sono il creguate ma vai ma io voglio essere l'impostore è più bello ma entra è da tre ore che stiamo facendo così ma questa roba non va mai ma chiamate l'elettricista ma cosa chiamate io non sono esperto di fili ma chiamate l'elettricista vabbè posso essere un idraulico elettricista qua c'è una tax ciao gabri questo è il motore tipo ok tax completata e toccano il bottone sono il cremate raga non sapete quanti video sto stoppando vabbè questo è l'ultimo video cioè l'ultima partita come va va allora io sono un hacker quindi non mi dovete lasciare stare no questo mi vuole non lo so chi è e dai questo è il più è il più e chi ma basta questo bottone odio la discussione ma cosa cosa c'è che cosa c'è mamma mia ma che cosa volete ma che cosa volete ma chi era poi l'assassino mi ma cosa fate orange è il rosso O ma perché il rosso chiamo O O mi va subito e agghiacciano i bottori no dai veramente non sono un impostore ma non eri un impostore te io voto io voto questo voto il blu ma vabbè sono un hacker io voto il blu io voto il blu no aspetta che votiamo chi votiamo Gabri ma io voto il nero votiamo il nero sì ok votiamo il nero sì ma non votate me perché poi non ha senso beh raga mi hanno chiccato tutti quindi faccio una partita a caso sulla eh un a caso perfetto dai mettiamo perché sono un minion ma sono un minion raga sono un minion ecco arancione il mio colore preferito è arancione ok vabbè aspettiamo no io non mi voglio far chiccare sono un crego oh ma l'impostore non sono mai è come come fare i midtermusteri vabbè vabbè qui cioè devo aggiustare tutti i fili accendiamo la corrente e mamma è sempre questo qui ma cosa perché mi hai finito questo video vabbè e per questo video è finito ricordati di darmi un bel mi piace iscriviti al canale è ancora fatto condividete il mio canale con i vostri amici che è la cosa più importante è sempre Gabriele sto parlando con i fan che è la cosa più importante condividerlo e tra poco siamo ai 500 iscritti e farò lo speciale e mi stanno dicendo che sono un hacker prima che ho visto ok vabbè chiccatemi fate quello che volete e noi ci possiamo vedere la prossima volta ciao ciao e raga vi dico l'ultima cosa magari se salirò a un po' di like magari metterò il link del hack oddio mi hanno chiuso la porta e io la passo attraversare ok e vabbè vabbè se mi ricordo metterò il link in descrizione ma dobbiamo arrivare almeno a più di 30 like spero che non ci fosse il bug che arriva a 30 e poi arriva a 5 ciao ciao